Buonasera da Infostudio. Erano davvero degradanti, oltre che miserevoli, le condizioni in cui 15 immigrati del Bangladesh, c'erano anche due minorenni, fra loro vivevano in una palazzina, un'intera palazzina di Paola, state vedendo alcune foto degli interni e poi vedrete delle immagini, vivevano tutti i venditori ambulanti in una palazzina in cui ciascuno pagava 100 euro a testa, 100 euro per vivere tra la spazzatura, in stanze prive di pavimenti, senza i letti, con una cucina alimentata con una bombola a gas e bagni e docce fatiscenti ed in comune. I due locatari sono stati denunciati per favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri in Italia e l'immobile, 700 metri quadri di superficie, è stato sequestrato. Poi c'è anche dell'altro, perché 5 migranti sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale ed altre due persone, altri due migranti, per detenzione di prodotti recanti, marchi contraffatti e ricettazione. Sono stati sequestrati infatti oggetti contraffatti di note case di moda, si tratta di 409, fra scarpe, borse ed occhiali. L'affitto, percepito in nero nel tempo, sarà calcolato e tassato. Emergono nuovi particolari, possiamo levare il titolo, sulla cattura di Rocco Morabito, il boss dell'Andrangheta, che è stato individuato in un albergo nel centro di Montevideo venerdì scorso. Poi però, anche per motivi di accertamento dell'identità, la notizia si è appresa lunedì mattina, l'altro ieri mattina in Italia. Comunque, Rocco Morabito, questo lo scrive la stampa uruguaiana, sarebbe stato catturato dopo aver avuto una discussione, un diverbio con la moglie nell'albergo in cui aveva preso alloggio. Nel momento dell'arresto era solo e la polizia uruguaiana è riuscita a trovarlo perché i sistemi degli alberghi sono collegati con il Ministero degli Interni. Questo è quanto precisa il quotidiano e l'Osservador, ricordando che durante gli anni nei quali ha vissuto nella capitale uruguaiana, Morabito non è mai tornato in Italia, anche se ha viaggiato tra Montevideo e l'Argentina e il Brasile. In diverse occasioni, infatti, si sarebbe recato a Buenos Aires e alcune volte a San Paolo del Brasile. Vi ricordo che Morabito, che è stato catturato dopo ben 23 anni di latitanze, l'ha ricercato dal 1994, aveva lasciato la Calabria quando aveva 25 anni. Esattamente la metà degli anni che ha, deve compiere infatti 51 ad ottobre. Da allora, secondo, ripeto, quanto scrive questo giornale uruguaiano, in Italia non ci era più tornato. E' stata prorogata l'attività della Commissione d'Accesso al Comune di Lamezia Terme. Quindi i commissari hanno altri tre mesi per passare al setaccio gli atti e i documenti e le carte dell'amministrazione guidata da Paolo Mascaro per verificare se vi siano state infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La Commissione d'Accesso era stata disposta dal prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, che è ovviamente lo stesso funzionario che ha prorogato adesso il tempo per il lavoro dei commissari e dopo l'inchiesta del 23 maggio scorso denominata Crissaride contro la Cosca Cerra, Torcasio Gualtieri, che aveva coinvolto ben tre consiglieri comunali, tutti dimessi, si vale a dire Pasqualino, Roberto, Giuseppe Paladino e Maria Lucia Raso. Ora i commissari hanno tempo fino a dicembre per concludere la loro attività ispettiva e consegnare la relazione al prefetto Latella, la quale poi dovrà inviarla al Ministero dell'Interno, che lì il Ministro Miniti deciderà se proporre, la decisione finale è naturalmente del Ministro dell'Interno che propone al Presidente della Repubblica, se proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale o no. Questo è un territorio nel quale non si possono avere rapporti con altre persone, perché quello che caratterizza l'Andrangheta è la sua capacità di confusione, infiltrazione e inquinamento dei vari settori, quindi bisogna sempre vivere da soli. Lo ha detto il procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero Derao, intervistato al telegiornale DTV 2000, sono parole naturalmente che fanno riflettere quello del capo degli uffici giudiziari reggini, il quale ha poi detto, non si ha mai la certezza di parlare con persone che hanno preso una posizione ferma contro l'Andrangheta, che per essere battuta necessita di esponenti delle istituzioni che adottino anche un codice etico che riporti alla rinuncia tutti i rapporti esterni che non siano quelli strettamente istituzionali. E poi fa un esempio Caffiero Derao, prima giocavo a tennis, oggi non lo posso fare perché anche quello determina entrare in un circolo, avere rapporti con persone. Cosa penserebbe il cittadino se mi vedesse insieme a persone che io reputo verbene e che invece hanno rapporti che io ignoro? Penserebbero tutti ad una procura inaffidabile. Poi dice però anche che una volta non si denunciava, soprattutto le vittime di estorsione non denunciavano, e che invece adesso ci sono persone che si presentano spontaneamente per denunciare estorsioni subite da anni. Questa, dice Caffiero Derao, è la dimostrazione di una società che sta cambiando. Dopo il tragico rogo del 18 agosto che ha fatto tre vittime, l'amministrazione comunale di Cosenza si impegna per il centro storico, invita anche i privati a fare di più e impone una task force che sarà guidata, e l'ha annunciato egli stesso, dal sindaco Chiuto. Dopo il tragico incendio che il 18 agosto scorso ha causato la morte di tre persone, il comune di Cosenza avvia un'iniziativa per migliorare la vivibilità del cuore ferito della città attraverso una strategia che prevede politiche incisive di decoro urbano ed il potenziamento del servizio di videosorveglianza. E in una conferenza stampa organizzata all'interno di Palazzo Spadafora, nel quartiere Santa Lucia, in pieno centro storico, il sindaco Chiuto annuncia il trasferimento, proprio in quell'edificio, di alcune attività ed il varo di una task force operativa che si occuperà dei problemi strutturali della parte più antica e più nobile della città. Un segnale di attenzione che potrebbe essere giudicato anche tardivo, ma che comunque stabilisce delle priorità, puntando a garantire la sicurezza urbana e sociale a chi abita nel centro storico, a rilanciare la zona stimolando i privati ad aprire attività commerciali, pensando a percorsi turistici mirati e creando i presupposti per tenere sotto controllo e risolvere situazioni a rischio nel minor tempo possibile. Il comune di Cosenza vuole trasferire le attività in questi edifici, lo farà perché verrò anche io personalmente in questo fabbricato con una task force operativa che sostanzialmente si occuperà di problemi, soprattutto quelli strutturali del centro storico. Le priorità sono quelle in dando di garantire sicurezza urbana e sociale a chi abita questi luoghi, poi di creare i presupposti perché alcune situazioni che sono a rischio, soprattutto di incolumità per le persone, siano tenute sotto controllo e risolte nel breve tempo possibile, considerato però che questo non dipende solo dal comune di Cosenza ma da tanti altri enti. E soprattutto il fatto che le case sono private, quindi sarebbero i proprietari che avrebbero l'obbligo della messa in sicurezza di questi edifici. E poi soprattutto un'attività di rilancio per stimolare i privati ad investire sul patrimonio che è di loro proprietà e in qualche modo con questo consentire il rilancio anche e soprattutto in chiave turistica del centro storico. Il vice sindaco Iole Santelli, che è anche la delega alla promozione del centro storico, ribadisce che si lavora su una serie di progetti che prendono in considerazione più aspetti ma sottolinea che per la vecchia Cosenza occorre una pianificazione a lungo termine, tenendo presente però che la sfida per la riappropriazione del territorio non dipende solo dal comune, perché la maggior parte delle case è privata, il che obbliga i proprietari alla messa in sicurezza. I fatti che sono accaduti sono stati i fatti che hanno toccato le coscienze, l'ottopera da un po' tutti. Mi auguro che servano per fare ancora di più da collante fra l'amministrazione e la città, perché ribadisco quello che credo fortemente la sfida sul centro storico è una sfida che coinvolge l'amministrazione ma che non è sufficiente all'amministrazione a gestire. Dove essere la sfida della città, è la città che interamente deve convincersi di poter scommettere sulla propria città storica e di riappropriarsene. Oggi il procuratore di Castrovilla, Rifacciolla, ha reso noti i dettagli di un'operazione che ha portato all'arresto di due piromani a Rossano. Si tratta di Pietro Catalano, di 41 anni, e di Giuseppe Barbieri, di 23, entrambi noti alle forze dell'ordine arrestati per incendio doloso dalla polizia che li ha colti in flagrante mentre con un accendino erano intenti ad appiccare un fuoco a delle sterpaglie in una zona nella quale fra l'altro ci sono una scuola e diverse abitazioni. Rogo che ha distrutto un'area boschiva di 1500 metri quadrati a ridosso del torrente C3 a Rossano. Catalano e Barbieri sono stati portati in carcere. A Crutone invece, nella serata di ieri, la polizia ha denunciato un 54enne per incendio doloso. Alla sala operativa è arrivata la segnalazione di un cittadino di un incendio nei pressi di Parco Pignera. Questo cittadino ha fornito una descrizione abbastanza dettagliata dell'autore il quale poco dopo, dopo pochi minuti, è stato rintracciato dalla polizia a poca distanza e perquisito è stato trovato in possesso di 5 accendini di altro materiale plastico in parte già bruciato. Tutti funzionanti, fra l'altro gli accendini, poi i vigili del fuoco hanno spento il rogo. Sabato prossimo alla Mezzia Terme alla Fondazione Terina si terrà il raduno regionale del volontariato di protezione civile. Saranno oltre mille i volontari che vi parteciperanno e ci sarà, vi prenderà parte, anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli. In Calabria ci sono 220 organizzazioni iscritte all'albo e più di 3.000 sono i volontari, molti, quasi tutti. Si può dire, se non tutti, sono stati impegnati quest'estate in quest'estate di fuoco che ancora non è finita, speriamolo sia dal punto di vista dell'impegno per loro. Ci sarà un incontro, confronto, dibattito in mattinata sui temi naturalmente del volontariato, del rapporto con le istituzioni. Nel pomeriggio invece una esercitazione. E parliamo adesso invece di Sila e di Birra che c'entra. L'Octoberfest è vicinissimo ormai e anche in Sila ci si appresta a organizzare una manifestazione similare però dedicata alle birre agricole ed artigianali calabresi. Massimo Tigani. Birre prodotte in Calabria con uno sguardo molto attento ai processi di filiera corta tra malti, luppoli, acqua e sostanze aromatizzanti. Il mercato Falcone di Camigliatello Silano, che rappresenta una grande novità per l'agroalimentare e l'enogastronomia di Calabria, apre al mondo delle birre artigianali e agricole. Dal 30 settembre e fino ai primi di novembre, ogni sabato e domenica spazio ai produttori locali di birre. L'imprenditore Arturo Falcone, intervistato da Videocalabria, spiega contenuti e motivazioni dell'iniziativa. Noi promuoviamo tutte le birre artigianali calabrese. Il nostro Talk Beer Fest Silano. Promuoviamo queste birre, le abbiniamo ai nostri legumi, ai nostri prodotti, alle nostre carni per promuovere soprattutto la birra che viene prodotta artigianalmente da aziende riconosciute a livello nazionale, perché alcune di queste hanno vinto anche il premio nazionale come miglior birra artigianale prodotta in Italia. dal 30 settembre fino al 5 novembre e cogliamo questa occasione, lo facciamo in questo periodo non perché dobbiamo farlo ad ottobre, ma perché è il periodo di massima concentrazione di sagre, di feste che abbiamo da sempre fatto nel nostro autunno silano, qui a Camigliatello, ed è un modo per promuovere insieme alla birra, che è un prodotto che si abbina tantissimo con i nostri piatti, con i funghi, con tutto, colto questa occasione proprio perché il Camigliatello è invaso dal turismo del sabato e della domenica in occasione di queste sagre. Speriamo bene, vi aspettiamo numerosi per assaggiare le nostre carni con le nostre birre. Saranno sei fine settimana, l'ultimo di settembre, 4 di ottobre e 1 di novembre, se potete andateci, anche perché credo sia abbastanza gustosa l'esperienza. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, il telegiornale torna domani alle 13.45. Grazie a tutti.